Con il prosciutto cotto rovagnati c'è sempre un nido per te! In un nido che ci trovi? In un nido puoi trovare le sorprese per giocare! Con un nido che ci fai? Incastrandolo puoi fare tutto quello che ti pare! E in cucina può servire, incastrando costruire! E se vuoi ci metti viti, pinzi, lacchiere o bottoni! Ma in un nido che ci trovi? In un nido puoi trovare tante idee per chi ti pare! Con un nido che ci fai? Ci fa il ghiaccio se ti va! E incastrando e incastrando ogni cosa a conservare! In un nido che ci trovi? Gantenati puoi trovare! Gantenati! Sì, col prosciutto rovagnati!